Ma no, vedi, allora sei tu polemica. No, io non sono polemica, ho solo detto che da quando Alice è di Telecom Italia, alla TV ci sono tantissime cose da vedere. Eh, grazie alla DSL di Alice la TV passa dalla linea del telefono, dalla presa al tasto con l'occhietto. E pensate che ci sono oltre 100 canali. Eh, digitale terrestri, pacchetti premium di Sky, tanti video on demand, tutto con un solo telecomando. Musica, sport, cinema, notizie, oltre 2500 film l'anno, da vedere come e quando ci pare. Eh, quando ci pare, non quando ti pare. Per chi si abbono entro il 30 giugno, Alice on TV è gratis per tutto il 2007. In più ci sono grandi promozioni per il pacchetto cinema e il pacchetto calcio Sky. Eh, capito? Il numero verde dedicato, 800, 187, 800, ti spiega tutto. E i film li vediamo un'altra volta. Chiaro? No, no, no. In questa casa, quando mamma e papà non ci sono, comando io. Ma cosa vuoi che comandare? Vai via, vai. Ma, va, 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 va. Molti mari e fiumi attraverserò Dentro la tua terra mi ritroverai Turbini e tempeste io cavalcherò Volerò tra i fulmini per averti Meravigliosa creatura Ragazzi, è qui! Fiamma! L'incontro col surfer potrebbe farti scambiare temporaneamente i poteri Oh mio Dio! Tutto quello che conoscete finirà I Fantastici 4 e Silver Surfer al cinema Cerchi un'auto usata? E una moto? Auto Supermarket e Moto Supermarket Ogni mese in edicola Alluron Sport La nuova Cologna Sport Chanel Con Vodiaia è sempre una festa In tavola E sui circuiti della MotoGP Borotalco Alto là al sudore Deodorante Borotalco Con microtalco che assorbe il sudore Alto là al sudore Borotalco Riconoscersi a pelle Stai cercando il posto giusto per il tuo TFR È Alleanza Che da una vita si occupa solo di previdenza Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari Prima dell'adesione Leggere note informative Statuti Regolamenti E condizioni generali di contratto I cancelli ci cercano Fuck Parola chiave Ah compare sì e con me no E che cos'ho io che lei non ha Vuoi vedere una coscia? Ne ho due E c'ho anche tre Con la nuova ricaricabile Super 5 Parli con tutti a 5 centesimi al minuto E senza scatto alla risposta Meglio cambiare Gioca e vinci il MotoGP con Ceres e Timondo Grisini Impaglio il Pass Paddock per tre fantastici giorni in moto mondiali E tantissimi premi immediati Cerca il codice sulle bottiglie della gamma Ceres Ceres Meravigliosa creatura Meravigliosa Nulla poteva salvare la foresta dal fuoco Tranne un prodigio E tutti ritrovarono la felicità Nuovo Ghetto dei Ducati Corse Funziona per i Tinducati Funziona per te Corri a prenderli EOS 400B Benvenuti sul pianeta di perdimento We can, you can Allora? Non ho sentito niente Nuovo 4 titanium con 4 lame al titanio Per una fantastica sensazione sulla pelle 4 titanium Da Wilkinson Provate a immaginare una birra Che respira quest'aria Che beve quest'acqua Forst 1857 La birra Semplicemente pura Un guidatore non sceglie l'auto È l'auto che sceglie il guidatore Sali in macchina Fidati Muoversi Oh mio Dio Transformers Nuova Opelastra Twin Top Rendi il tuo mondo più eccitante Tutti volevano la Coppa Ma l'abbiamo solo noi Coppa Oro San Montana Acqua di Gio Giorgio Armani Marco Melandri Un grande campione Che sa scegliere con gritta Come la sua collana morellato Dal design deciso Tony Elias Da sempre in grado di giocare e stupire Sottolinea la sua eleganza Con i dettagli unici Dei suoi gioielli morellato Ci sono momenti In cui i particolari Fanno la differenza Tony sceglie l'orologio class Inconfondibile Per il suo colore E per il diamante naturale Momenti In cui è importante Seguire le proprie aspirazioni Con l'orologio morellato Marco si distingue anche Nelle situazioni più sportive Per Martina La vita va vissuta ogni giorno Concedendosi Un piccolo lusso Come il pendente morellato Con i caratteristici Zirconi viola Brigitta Scandisce il suo tempo Con i dettagli preziosi Del suo orologio morellato Con cristalli svaroschi E quando scegli di vivere Daily chic Cogli sempre nel segno Con il tuo gioiello morellato Dal design unico e distintivo Morellato Gioielli da vivere In the sick moon Future friendly Future friendly E tutto nelle tue dita Autoemozione Il divertimento Ti aspetta a Gardaland Gardaland Un sogno sempre nuovo Novità 2007 Time Voyager Corro al ritmo della mia batteria La musica mi trasporta Scopro posti che non mi conoscevo Halfway point Più lontano di quanto avessi mai immaginato Non posso più farne a meno Oggi 207 è il clima incluso Con l'operazione Peugeot Fresh Peugeot 207 Diesel HD con clima È tua da 11.300 euro E in più due anni di bollo gratis BNL Gruppo BNB Paribas Presenta Ci servono un bel po' di soldi È subito Il partner Ok io penso al viaggio Voi il resto La dama Dammi retta Vi danno 10 anni Il testimone La banca E Prestito BNL Revolution Il prestito che non c'era L'unico fino a 100.000 euro Fino a 120 mesi Grazie La vita è ora Queste auto non hanno nulla di straordinario Non infilerebbero mai un tornante a 650 km all'ora Sono esattamente come le auto reali Ma è proprio questo che le rende straordinarie Ene meenie miney mo Catch a tiger by his toe If he hollers let him go Ene meenie miney mo Ene meenie miney mo Catch a tiger by his toe If he hollers let him go Ene meenie miney mo Ene meenie miney mo